E poi quando abbiamo giocato qua a Roma eravamo tutti sicuri di vincere 3-0, tutti, tutti tranne uno. Costas Manolas, che ha segnato il 3-0. Giuro, eravamo qui a fare colazione a Trigoria e c'era quel feeling di cui ti ho parlato prima, c'era quella sensazione lì. Eravamo tutti sicuri di vincere 3-0 e di passare il turno, tutti tranne uno, che diceva che avremmo preso altri quattro gol. Manolas, che però era sempre così in realtà lui. Attenzione a questo pallone messo dentro l'interessante. Giuro! 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 Sì, 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 sì